Musica E allora facciamo una cosa Voglio andare La campagna non c'è Vedete su Avoc Warfare Perché A questo punto io direi Proviamo Una partita Di Avoc Warfare Perché Alla fine a me questa è la cosa più importante Vediamo un po' Come funziona Avoc Warfare Perché Allora Tactical Turmoil A me non fa impazzire Ma perché sono io Che non mi piace più di tanto Ma devo ammettere che Anche se era in tutorial Mi sono divertito Io sono un tipo che poi Non potrebbe nemmeno più di tanto In una zona del genere Perché Come lo so io Cazzo che muoio subito E quindi Vabbè Questo è un altro discorso Ma questo tipo invece Di modalità Potrebbe piacermi Quindi Vediamo Io vorrei sponare Mi piace Che Mo vedo Vabbè ma Cioè è così Diretto Ma tu mi vuoi far morire a me Raga Gioco funitissimo A A quantità Grafica ultra 70 fps Tanta roba Cioè Coppito Coppito Vai 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 Dobbiamo usare di qua sopra Ragazzi Vabbè Vabbè Mi Lo shooting Mi è appagante Ok Dai 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 Sì Sì Destrazione Ok Perfetto 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 Ok Ho bisogno di munizioni E credo che l'avevo trovato in posto che è questo Rai chiamoci un attimo Prepariamoci a difendere Raga È una bellissima modalità Quando non parlo più di tanto È perché mi sta piacendo assai Sono impazzito È un po' È un po' Good Chi mi ha ucciso? Scusami Ma nel fumo come fai a prendermi Dai su per favore Non cominciamo Ok Si può sapere dov'è? Ok Perfetto Ok 97 Ya 97 Ma che vuol dire Su Ma che vuol dire e 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 tutti assi sto fatto vabbè ci sta e 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 la bomba è sgravato mamma mia che schifo guarda e 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 ok ok e 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 a e da solo ci sta ci sta ci sta va bene ragazzi sono state alcune bestemmie devo dire che mi sono divertito molto mi piace molto vengo veramente vengo a parte qualcuno che non mi è piaciuto come gioca che mi puzza un po' tutto ok ovviamente bene ovviamente bene ci sta io come prima partita ma 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 ok ci sta ci sta mi piace va bene va bene la mia squadra va bene ci sta dai ho fatto il secondo posto nella mia squadra siamo la quarta miglior squadra io direi che è un ottimo risultato ragazzi il video può finire qua spero che il video vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace mi piace molto questa modalità e credo che giocherò sempre questa e noi ci vediamo su un prossimo video ciao ragazzi